La società regionale di trasporti TUA è stata condannata dal Tribunale di Chieti per condotta antisindacale. Segretario, qual è la situazione e anche il suo commento su questa vicenda? Una società pubblica che mette in discussione una legge dello Stato. Infatti la legge 300 per quanto riguarda l'aspettativa è una comunicazione che noi dobbiamo fare, nient'altro. Loro devono solo e esclusivamente prendere atto. Naturalmente questo è frutto e figlia di una serie di situazioni che si sono rincorse nel corso degli anni. È una scelta politica messa in discussione di alcuni diritti per quanto riguarda questa società. Non è una questione di natura esclusivamente legale. A questo punto dunque cosa accadrà alla luce di questa sentenza? Dovranno dare sicuramente esecuzione alla sentenza. Il segretario della Filt dal primo di novembre sarà in legge 300, dopodiché si vedrà. Avvocato, nel merito questa sentenza cosa dice? La sentenza si fa apprezzare sotto due profili, uno soggettivo e uno oggettivo. Il primo, che era quello che obiettivamente premeva di più alla ricorrente, alla Filt CGL, cioè la valorizzazione dell'interesse dell'organizzazione sindacale, non tanto come ha cercato di fare la controparte, l'interesse del singolo destinatario del provvedimento dell'aspettativa. Quindi la valorizzazione della centralità dell'organizzazione sindacale. Uno oggettivo, che era risposta ferma, seria, concreta, offerta dal Tribunale, e cioè che non esiste una possibilità di, come dire, contemperare le esigenze dell'azienda con quelle del sindacato. La legge 300 prevede espressamente un diritto potestativo in capo al sindacato, che dunque è titolare di una vera e propria facoltà di incidere sulla scelta e sulla tempistica dell'aspettativa stessa.